Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo a Taranto in via Mazzini, angolo con via Pisanelli. Vogliamo mostrarvi una situazione particolare, l'ennesima di questa città. Sapete bene che in città sui nostri marciapiedi insistono alberi di alto fusto che praticamente creano problemi al banto stradale, creano problemi ai marciapiedi stessi, comportano, fanno sì che si sollevino poi i vari mattoni e si solleva di fatto anche il manto stradale. Ora io mi domando, certamente sono situazioni per così dire ataviche che si sono stratificate negli anni e quindi ora nessuno chiede un intervento con la bacchetta magica, ma mi domando, signori amministratori, di oggi e di ieri. Scusate ma come si spiega che in altre città, penso a Torino, sono stato ultimamente in vacanza e vi posso dire che c'erano strade, marciapiedi, viali, alberati, un miliardo in misura, un miliardo di volte superiore a Taranto. Bene, come è possibile che a Torino si gestisce l'esistenza degli alberi sui marciapiedi, che i marciapiedi sono perfettamente funzionanti, quindi evidentemente vengono fatti e rifatti, ci sono delle opere di rifacimento che fanno sì che l'albero rimanga, ma a parimenti il manto stradale e i marciapiedi siano in sicurezza. Cioè a Torino abbiamo alberi che sono dieci volte superiori a questo, a questo albero o ad altri, e gli alberi tranquillamente convivono nel, diciamo, nel tessuto urbano, nel tessuto cittadino. A Taranto anche le piccole cose, anche un ramoscello crea problemi. Un'Italia a due velocità, l'amministrazione è pregata di intervenire, magari coinvolgendo studiosi del settore.